L'attenzione, volante 15 Dietro il ciclo di cibo, la giuglietteria Il profilerio ci ha chiamato al 113 Ma non abbiamo il motivo, ha chiesto solo di intervenire Adore sta da sticumpe a angeli Un gesto a condizionato a torna a me O zan da solo che vado a te va Mi guarda a spalla capo a capita Cacuac runa me benasparata O chiesto vostro mi voglio in vidia Su malamento che vado a te va Ormai a vita mia che sta a te va Su granità non posso venire Durmai a vita mia che sta a te scappa Escappa è segura perché a polizia Mi manda via, mi arrasta Su condannata a fare questa vita Ci sono abituato, ma sono dichiarato Tengo a coscienza, io scuro che sangue Riva Gesù, ma baradona 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 Grazie a tutti.